Ciao amici pescatori ci troviamo in uno dei bellissimi laghi di Sant'Anna e stiamo facendo questo video perché vogliamo presentarvi un nuovo metodo di pesca un nuovo metodo di pesca simile al carpishing perché c'è necessità di questo tipo di pesca? che essendo di mia invenzione ho deciso di chiamarlo swing fishing vi è mai capitato come a me oggi di incagliare e quindi di dover tagliare la lenza? certo poi presi dall'incazzatura fatte di tutto e riuscite a tirare fuori il moncone di lenza che è rimasto in acqua? certo io l'ho raggommitolato qua cosa gli hai fatto? raggommitolato da questo nasce il carpish non vi serve altro che un piombo da fiume comprato da Dani un portapiombo estraibile safety clip safety clip comprato da Dani una girella della Fox comprata da Dani e un semplicissimo e normalissimo terminale da car rig da car fishing creato dal qui presente cameraman Gianluca Amorapanini ah si inoltre mi servirà un po' di shock leader e partiamo con la creazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti